Ciao a tutti, come vedete sono vestito a festa, sono davanti a questo sfondo molto togaio. Ciao ragazzi, questo sarà il costume del mio nuovo personaggio, però manca qualcosa. Cos'è che manca Fabio? La catena. Ah, la catena, è vero. Fabio quello che sta riprendendo è il produttore cameraman che si è cimentato in questa avventura insieme a me e questa è un'anteprima di quello che vedrete, darò sfogo al mio disagio mentale e ma cosa? Eh, questo dice tutto.